No, diciamo che loro hanno concretizzato l'unica palla a gol che hanno avuto e noi invece arrivavamo bene fino a tre quarti campo, poi non riuscivamo a concretizzare la mole di gioco. Quindi dal punto di vista del gioco penso bene, forse sicuramente doveva migliorare dal punto di vista della concretezza. Penso che comunque la squadra era competitiva, quindi è mancato proprio questo. Peccato aver perso perché secondo me non lo meritavamo. Sì, siamo tanti, siamo tanti davanti, dietro, quindi penso che sia una rosa omogenea e può essere competitiva per l'europeo.